I carabinieri denunciano una donna di 39 anni, agente aggredito in carcere da un detenuto. Coronavirus, la Sicilia, sempre più vicina ad un nuovo lockdown. E sulla vicenda dell'ospedale di Castelvetrana abbiamo sentito Alessandro Guarrato. Torna l'informazione con Tele8 e le sue Tg8 informazioni. Al carcere di Trapani un agente è stato aggredito da un detenuto e è stato costretto a ricorrere alle cure presso l'ospedale. Il servizio. Resta alta la tensione nelle carceri della Sicilia. Dopo le reiterate violenze nel penitenziario di Piazza Lanza a Catania e nella struttura detentiva di Trapani che si conta una nuova aggressione ad appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Così Calogero Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria. A poche settimane da un'altra analoga aggressione, ieri un assistente di polizia penitenziaria del carcere, Pietro Cerulli di Trapani, è stato aggredito da un detenuto dopo averlo accompagnato a un controllo nell'infermeria della struttura detentiva, spiega. Un'aggressione assurda e violenta posta in essere mentre il detenuto veniva riaccompagnato nella sua cella e che ha costretto il poliziotto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Servono interventi urgenti per frenare la spirale di violenza che caratterizza le carceri siciliane. Solidarietà alla gente ferito arriva anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe. Siamo vicini al collega ferito ed è inaccettabile che i poliziotti penitenziari non abbiano strumenti per difendersi da questi delinquenti violenti. Servono corretti immediati, il taser o altre soluzioni analoghe per fermare queste continue violenze che minano anche la serenità del corpo di polizia penitenziaria tutto. I carabinieri hanno denunciato una donna di 39 anni che si trovava fuori il palazzo di giustizia con un coltello. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno deferito in stato di libertà una donna di 39 anni residente a Castelvetrano, ritenuta responsabile del reato di porto illegale di oggetti atti ad offendere. In particolare, i carabinieri in servizio di vigilanza presso le aule dibattimentali del Tribunale di Marsala si erano accorti della presenza di un coltello con lama di lunghezza pari a 10 centimetri depositato proprio vicino l'ingresso del palazzo di giustizia. I carabinieri, tramite l'attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all'identità di una donna, che prima di entrare all'interno del Tribunale, avendo capito che gli attenti controlli degli accessi nel palazzo di giustizia svolti dai carabinieri avrebbero sicuramente rivenuto il coltello, non aveva potuto far altro che deporre lo stesso che custodiva nella propria borsa sul marciapiede nei pressi dell'ingresso carraio, probabilmente con l'intenzione di recuperarlo in seguito. Resta comunque da capire il perché avesse con sé quell'arma bianca. A conclusione degli accertamenti svolti dai carabinieri, la 39enne è stata deferita e dovrà rispondere dell'accusa di porto illegale di oggetti atti ad offendere. E lasciamo la cronaca e torniamo a parlare di quella che è la materia principale dei nostri vigili, il coronavirus e la campagna di vaccinazione a tener banco intanto il caso Marsala. Ieri è una nota dell'Asp in riferimento alla notizia del focolaio nell'istituto comprensivo Sirtori di Marsala. La direzione dell'Asp ha precisato che nel periodo 12 marzo-3 aprile i contagi rilevati dal Dipartimento di Prevenzione Aziendale tra alunni e personale docente sono stati 14 su 343 tamponi effettuati. Si precisa inoltre nella nota dell'Asp che per le classi frequentate dai soggetti risultati positivi sono state osservate le previste disposizioni di quarantena. È stata inoltre effettuata l'attività di contact trial. Sono state adottate tempestivamente le previste disposizioni di isolamento domiciliare obbligatorio e di quarantena per tutti i contatti stretti. La direzione aziendale inoltre conferma pertanto che sono state adottate tutte le misure di prevenzione per il contenimento da contagio Covid-19. E sempre in materia di coronavirus, la Sicilia si avvicina alla zona rossa. Domani il giorno della verità, eventualmente una zona rossa che scatterebbe da lunedì. Ascoltiamo. La Sicilia vede rosso la situazione dell'emergenza Covid nell'isola dove ieri il numero dei nuovi casi ha superato per la prima volta negli ultimi mesi quota 1.500, suscita preoccupazione. Ieri l'emergenza è anche approdata all'Assemblea regionale siciliana con due distinte audizioni che si sono svolte davanti alle commissioni Sanità e Antimafia. Dirigenti e commissari della Sanità hanno risposto alle domande dei parlamentari sulle criticità emerse nelle ultime settimane e sull'andamento dei contagi fotografando una situazione non certo rassicurante con aumento esponenziale dei contagi, ospedali al collasso e poche vaccinazioni per mancanza di siri. Il bollettino del Ministero che ieri ha segnalato altri 1.542 nuovi positivi nell'isola su 29.503 tamponi processati evidenzia in Sicilia una incidenza del 5,2%, decisamente più alta della media nazionale al 4,8%. L'andamento negativo dell'epidemia in Sicilia è confermato anche dal numero delle vittime, 33, e dall'aumento dei ricoveri ospedalieri. 1.415 nei reparti ordinari, 25 in più rispetto a ieri, e 189 nelle terapie intensive. Un dato in controtendenza rispetto al trend nazionale dove invece la pressione sugli ospedali sta diminuendo. Mentre in Sicilia si corre il rischio della zona rossa, sono 17 i nuovi centri di vaccinazione che la protezione civile regionale sta realizzando nella regione, che si aggiungono a quelli già presenti nei capologhi di provincia e ai 98 esistenti presso ambulatori e ospedali dell'isola. In base a questa nuova programmazione, al regime saranno 123 le strutture operative dove sarà possibile ricevere la somministrazione del vaccino anti-covid. Hub ospedali e laboratori che costituiscono la dorsale principale di risposta all'emergenza sanitaria e per mezzo della quale la regione intende riuscire a vaccinare in sicurezza 50.000 siciliani al giorno per raggiungere l'ambizioso obiettivo di vaccinare tutta la popolazione entro settembre. Da proposito sempre della campagna di vaccinazioni, per quanto riguarda la prenotazione dei vaccini in Sicilia, poste italiane al fianco della regione e invita i nonni, cioè quelli che hanno più di 60 anni, a prenotarsi anche attraverso il proprio portalettere. Nell'ambito della cosiddetta operazione nonni lanciata in questi giorni dalla regione siciliana per la vaccinazione anti-covid di tutti i cittadini ultraottantenni, poste italiane ricorda ai soggetti in target la disponibilità alla prenotazione da parte dei 2.200 portalettere presenti sull'isola. Ricorrere al postino di fiducia è una scelta portata di tutti i cittadini, soprattutto i più anziani, che hanno meno dimestichezza con gli strumenti tecnologici, dichiara la responsabile logistica Sicilia Valentina Smiraglio. Per questa ragione la nostra azienda vuole sottolineare l'importanza di questo canale umano al fine di contribuire a raggiungere l'obiettivo della copertura vaccinale, in particolare per tutti i soggetti over 80. In provincia di Trapani i 200 portalettere di poste italiane già in servizio per il recapito e dotati di dispositivo palmare, possono infatti verificare in tempo reale gli slot di prenotazione disponibili per la vaccinazione e confermare l'appuntamento prescelto. Per farlo basta essere in possesso della tessera sanitaria, fornire un numero di cellulare e il cap di riferimento. La procedura è semplice e accessibile a tutti, si precisa la responsabile Malle Sicilia di poste italiane. Una volta forniti i dati, i nostri portalettere si occuperanno di tutto il resto, indicando le opportunità di prenotazione ai nostri nonni o loro delegati, che valuteranno a quale slot aderire in base alla disponibilità presso i centri vaccinali. In caso positivo si procederà alla stampa della ricevuta con i dati della prenotazione che il cliente riceverà in automatico anche via SMS. L'azienda accoglie l'occasione per ricordare che i cittadini siciliani in target possono ricorrere, oltre alla task force dei portalettere, agli altri tre canali messi a disposizione da poste italiane. Restano infatti operativi la piattaforma online all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center al numero verde 800-009-966 e la rete dei 687 sportelli automatici ATM postamat presenti sul territorio. Proseguono intanto le consegne dei vaccini anti-covid in Sicilia da parte del Corriere Espresso SDA di poste italiane, l'ultima fornitura di 14.000 dosi AstraZeneca e in consegna in queste ore presso le farmacie ospedaliere di Giarre, Palermo, Messina, Milazzo, Enna, Erice, Casa Santa, Siracusa, Ragusa, Agrigento e Caltanissetta. Rimaniamo in materia di sanità ma abbandoniamo il tema del coronavirus. Ci sarà la giornata in occasione della giornata nazionale della salute della donna dal 19 al 25 aprile. Le porte dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani saranno aperte per i controlli. I dettagli nel servizio di Tiziana Indorato. L'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, che rientra nel network Bollini Rosa, aderendo alla sesta edizione dell'Open Week dal 19 al 25 aprile, dedica una settimana alla salute della donna con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile e coinvolge tutti gli ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa. I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Fondazione Onda attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. In particolare, l'offerta gratuita del Sant'Antonio Abate riguarda servizi con particolare riferimento alla ginecologia e ostetricia. Visite ambulatoriali di uroginecologia, contraccezione, menopausa, senologia, incontri divulgativi online, allattamento, rieducazione del pavimento pelvico, manovre di rianimazione e disostruzione neonatale pediatrica nati per leggere. Prenotazioni obbligatorie su ginecologia.trapani.it L'ospedale Sant'Antonio Abate per il biegno 2020-2021 ha ricevuto tre Bollini Rosa. E da un ospedale, quello di Trapani, che apre le porte per i controlli delle donne, ad un altro, quello di Castelvetrano, che tiene banco per la chiusura del reparto di neonatologia e pediatria. Abbiamo stamattina sentito sul posto Alessandro Guarrato, una nostra vecchia conoscenza. Vediamo cosa ci racconta e vediamo com'è la situazione dal Vittorio Emanuele II. Dopo la manifestazione pacifica che ieri ha visto centinaia di cittadini della Valle del Belice e sei sindaci guidati dal sindaco Alfano, c'erano anche i sindaci di Campobello, Salaparuta, Gibellina, Poggio Reale e Campobello di Mazzara e sembrava che qualcosa si fosse messo in movimento. Questa mattina ci sarebbe dovuto essere un incontro a Palermo con il presidente Musumeci e i sindaci che avevano richiesto ufficialmente questo incontro proprio per cercare di limere la situazione e trovare una soluzione che potesse contemperare le esigenze legittime dell'ospedale di Mazzara ma non depoperare ulteriormente quello di Castelvetrano. L'incontro pare che non avverrà o potrebbe avvenire soltanto in videoconferenza è una soluzione che si saprà nelle prossime ore. Intanto pare che dopo le iniziative portate avanti dal Comitato Orgoglio Castelvetranese che ieri ha bloccato il camion dei traslochi che avrebbe dovuto iniziare il trasferimento di letti e apparecchiature elettromedicali mi pare che la situazione anche in questo caso sia in evoluzione qualche cosina anche con delle auto di servizio è stata già trasferita e si attende per le prossime ore un ordine di servizio che disporrà che il personale venga trasferito su Mazzara del Vallo. Ovviamente parliamo di molti, si dice e molte situazioni ancora non definite nelle prossime ore potremo darvi maggiori dettagli. A 15 giorni dalla scadenza della proroga non si hanno notizie certe sui meccanismi per il rinnovo del permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri molti dei quali impegnati in Sicilia nel campo agroalimentare. Il Covid-19 sta causando anche questo disagio. A lamentarlo la CIA Sicilia Occidentale per i gravi ritardi che si stanno accumulando nell'itare del rinnovo dei permessi di soggiorno. Continua Antonio Cossentino presidente della CIA Sicilia Occidentale dicendo che è necessario trovare al più presto una soluzione a un problema serio che può avere anche ripercussioni dal punto di vista sociale e non soltanto economico. Sappiamo, ha continuato Cossentino che gli uffici dei commissariati sono ingolfati, alle poste è diventato impossibile avere un appuntamento in tempi normali. A questo punto la politica deve intervenire mettendo in campo tutti quegli strumenti che riterrà più i doni per risolvere il problema dei lavoratori e delle aziende. E torniamo a parlare del caso Denise Pipitone. Ieri è intervenuta nuovamente Piera Maggio che sul caso Olescia ha detto che non si sarebbe mai prestata ad un teatrino del genere. Sulla storia di Olesia voglio mettere un punto questa verifica andava fatta senza remore. Ovviamente il metodo che i russi pretendevano io non lo avrei mai accettato. Sono queste le parole di Piera Maggio la madre di Denise Pipitone ieri sera ospite alla trasmissione Chi l'ha visto? In trasmissione Piera Maggio è tornata a parlare del caso della ragazza russa Olesia Rostova che aveva raccontato ad un programma televisivo russo di essere stata rapita da piccola e per via di una somiglianza si era ipotizzato che potesse essere la piccola Denise scomparsa da Mazzara del Vallo nel 2004. Il caso tenne col fiato sospeso tutta Italia che sperava dopo 17 anni nel ritrovamento della bimba. L'analisi del gruppo sanguigno dimostrò poi che Olesia non era Denise. A occuparsi della vicenda un programma tv russo che scatenò non poche polemiche sulla scelta di volere seguire indirette il risultato del DNA ipotesi poi rifiutata dal legale della famiglia di Denise Pipitone. Loro il DNA lo avevano ma io sarei dovuta andare in quella trasmissione a fare quel teatrino e non mi sarei mai prestata a questo racconta Piera Maggio. L'unico metodo era chiedere il gruppo sanguigno che serviva per evitare lo step successivo. Fra Zitta è stato molto bravo e ci ha speso nottate. Perché non si è subito proceduto a dare subito tutto alla procura? Perché sarebbero passati mesi e io non potevo aspettare. Non ho atteso nessun embargo ho saputo subito il gruppo sanguigno della ragazza russa. Tutte le segnalazioni vanno verificate per questa abbiamo seguito la via più veloce grazie a Fra Zitta. Spostiamoci adesso a Trapani in occasione dell'incontro istituzionale tenutosi lo scorso dicembre presso il comune di Trapani con l'assessore Samonà nel corso del quale è stato ribadito l'interesse programmatico dell'amministrazione Tranchida tanto sulla necessità di valorizzazione storico-artistico-culturale tanto per la cogestione dei beni demaniali regionali insistenti nel territorio trapanese ed in particolare la Colombai e Villino Nasi è stata anche prospettata la realizzazione del parco naturalistico della nave romana di Marausa. Tale parco attualmente di proprietà privata e con i quali l'ente comunale trapanese ha stipulato un contratto che autorizza la vendita subordinata all'ottenimento di appositi finanziamenti consentirebbe di valorizzare i luoghi in cui arrivavano le navi romane provenienti dall'Africa per scaricare le merci in questo lembo di Sicilia occidentale. E da Trapani scendiamo a Marsala dove è stato sequestrato un palazzo abusivo in centro che dovrà essere demolito. I vigili urbani di Marsala hanno sottoposto a sequestro giudiziario l'edificio in stile moderno con facciata in marmo grigio scuro e vetri realizzato in centro storico al posto di una vecchia abitazione per il quale due settimane fa il dirigente del settore pianificazione territoriale del comune ha firmato un'ingiunzione di demolizione. Destinatario dell'ordinanza è stato l'amministratore unico della società Fatima SRL proprietaria dell'immobile destinato ad essere una struttura ricettiva. A firmare il sequestro è stato invece il comandante della polizia municipale Vincenzo Menfi che coordina l'indagine sul caso. I sigilli sono stati posti sulle porte d'ingresso l'immobile tre elevazioni più il piano terra è in via Garraffa alle spalle della barocca chiesa del Purgatorio e di fronte al fossato con reperti archeologici e all'ex convento di San Girolamo. Non distante c'è anche la chiesa madre. I lavori avviati nel 2017 hanno avuto un finanziamento nell'ambito del POR Sicilia. Nell'ordinanza di demolizione che impone di abbattere le opere abusivamente realizzate con ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni si parla di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali. Il progetto è a firma degli architetti Andrea Pellegrino e Giovanni Cammarata. Sul caso avevano aperto indagini prima l'ufficio tecnico del comune e vigili urbani e poi la procura della repubblica che ha nominato tre consulenti tecnici. Ed un ordigno bellico è stato rinvenuto in un terreno lungo la strada statale 115 per Marinella di Selinunte nei pressi di un rifornimento di benzina. La zona è stata transennata in attesa dell'intervento degli artificieri utile a far brillare l'ordigno che a quanto pare risale al secondo conflitto mondiale. E il comune di Misiliscemi ha ottenuto anche l'ok da parte del Consiglio dei Ministri. Ascoltiamo. Con la valutazione di legittimità costituzionale da parte del Consiglio dei Ministri ogni dubbio sulla nascita del comune di Misiliscemi istituito con la legge regionale 3 del 2021 è fugato. Si corona così il sogno di tanti cittadini misilesi che hanno fatto dell'autodeterminazione una bandiera di libertà e democrazia coinvolgendo anche il Parlamento regionale che ha legiferato in merito. A parlare è Eleonora Locurto capogruppo Udc all'Assemblea regionale siciliana. Ho sposato la loro causa sin dall'inizio sostenendo la loro battaglia e le loro ragioni aggiunge da troppo tempo infatti vivevano una condizione di marginalità rispetto all'amministrazione cittadina di Trapani. Adesso arriva la bollinatura definitiva che fa trionfare la democrazia rendendo giustizia un percorso seguito sotto il profilo formale e sostanziale. Ora si apre la fase di costituzione dell'ente che definirà anche i confini territoriali estendendoli in un'area che comprende i comuni di Trapani Marsala e Paceco e presto potranno essere celebrate anche le elezioni per la scelta del sindaco e dei consiglieri comunali. Il nuovo comune fino alle elezioni di sindaco e consiglio sarà retto da un commissario straordinario la sede legale provvisoria nell'emore dell'approvazione dello statuto e nel comune di Trapani Nel territorio di Misiliscemi rientrano le frazioni di Fontana Salsa Guarrato Rilievo Locogrande Marausa Palma Salina Grande e Pietre Tagliate Il personale del comune di Trapani residente nelle frazioni scorporate passerà alle dipendenze del nuovo ente locale Nel territorio ricadono strutture importanti al momento sotto il controllo di Trapani l'aeroporto di Birgi l'ospedale l'università lo stadio di calcio e il penitenziario in totale Misiliscemi avrà 8.669 abitanti circa il 12,5% degli attuali abitanti di Trapani Ed era questa l'ultima notizia del nostro Tg io vi lascio con la programmazione di Tele8 sul canale 190 del Digitale Terrestre e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima edizione del Tg8 informazione di Tg8 di Tg8 di Tg8 Grazie a tutti.